Un accordo tra Ministero dell'Istruzione della Bielorussia e Parco Scientifico di Porto per favorire lo scambio di studenti, ricercatori e docenti nel settore della ricerca e dell'innovazione. È il primo atto concreto prodotto dal tour in Sardegna del ministro bielorusso dell'Istruzione. A due settimane dalla prima visita di un rappresentante del governo bielorusso nel nord dell'isola, la collaborazione tra i due territori prende forma. Gli incontri che il ministro ha avuto con le istituzioni del nord-ovest Sardegna stanno consentendo di raccogliere i primi frutti della ventennale amicizia tra Bielorussia e Sassari. In questo quadro si inserisce anche l'accordo che l'Università di Sassari siglerà breve per inserire la Bielorussia tra i paesi europei con cui l'Ateneo collabora nell'ambito dei progetti di mobilità degli studenti e dei docenti, ma anche la trattativa per il collegamento aereo fra Minsk e Alghero. La visita ha permesso di sancire il gemellaggio fra Sassari e Rodna, la città natale del ministro. La provincia di Sassari è a rischio default e non può fare nulla di più di quello che sta facendo. Il destino dell'ente, dei servizi erogati e della società in house è legato alle scelte che verranno operate a Roma e a Cagliari. È la posizione che l'amministrazione provinciale di Sassari ha ribadito anche ieri mattina ai dipendenti della Multis che hanno occupato nuovamente gli uffici del palazzo di rappresentanza dell'ente in piazza d'Italia a Sassari. È stata un'altra giornata di grandissima tensione, culminata con il confronto tra una delegazione di lavoratori e di rappresentanti sindacali e gli amministratori e i dirigenti della provincia. La preoccupazione è massima su tutti i fronti. Ai timori degli operai, esasperati dall'incertezza e dal timore di ritrovarsi senza un lavoro, si aggiunge il problema dell'impossibilità dell'amministrazione provinciale di erogare i servizi essenziali come la gestione delle scuole superiori e delle strade provinciali. E dietro l'angolo il pericolo sempre più imminente del passivo di bilancio prodotto dalla somma tra il prilevo imposto dallo Stato col Decreto 90 del 2014, attraverso il quale il governo Renzi ha finanziato l'aumento di 80 euro nelle buste paga degli italiani, per il quale la provincia dovrà pagare 2.683.000 euro entro il 10 ottobre. Quel debito sarebbe stato onorato se l'attuale governo regionale avesse mantenuto la promessa di ripianare il taglio di 4.300.000 euro effettuato da Capellacci sullo stanziamento della quota del Fondo Unico Regionale destinata alla provincia, recriminano gli amministratori e i tecnici. La provincia sperava in verità di non pagare quel debito perché decreto alla mano era previsto l'esonero per chi rischiava il disesto finanziario a causa del prelievo. Ma nei giorni scorsi il timore di dover versare quella cifra si è fatto sempre più concreto, assommandosi alla paura che da Cagliari non arrivi più nulla o quasi, dato che secondo le notizie più insistenti la quota del Fondo Unico che spetta alla provincia non si discosta di molto dai 600.000 euro già avuti come anticipo. Secondo i conti della regione, infatti, il Fondo Unico ammonterà complessivamente a 35 milioni di euro e di questi solo il 9% spetta in tutto alle 8 province sarde. Nonostante la tensione e il clima per niente sereno, agli operai è stato rivolto un invito alla calma e alla pazienza in attesa di capire come si possano reperire altrimenti le risorse da versare allo Stato per evitare di finire in rosso, ma anche per sapere a quanto ammonterà effettivamente il trasferimento stanziato dalla regione in favore della provincia. La situazione sarà illustrata nel dettaglio anche ai parlamentari del territorio, il senatore Silvio Lai e il deputato Giovanni Sanna, nel corso di un incontro con la giunta provinciale e i dirigenti dell'amministrazione. Si parla molto di acqua e dei disagi ai quali spesso l'ente gestore del servizio idrico cittadino sottopone l'utenza con sospensioni dell'erogazione e quant'altro. L'utente porta pazienza aspettando che l'acqua torni a sgorgare dal rubinetto di casa, possibilmente con un colore limpido e non giallastro come accade spesso. Poi però succede che un tubo si rompa. Va bene, la condotta non è proprio nuovissima e ci sta dunque che qualcosa possa rompersi. Guardate queste immagini girate da un nostro telespettatore. Siamo a Caniga, in via Peppino Mereu, in prossimità di via Dino Col. Da una buca profonda a 50 cm sgorga una copiosa perdita d'acqua da circa un mese. In tutto questo lasso di tempo, nonostante le segnalazioni al lente preposto, sono intervenuti solo i vigili urbani del nucleo di Lipunti che hanno provveduto a transernare l'aria intorno alla buca per ragioni di sicurezza. Ma quanto ci vuole per sistemare la falla ed evitare ulteriori disagi alla popolazione che già ne deve sopportare parecchi? Un punto di riferimento per gli operatori della piccola pesca è uno spazio informativo per cogliere possibili opportunità di sviluppo del settore. Nell'ambito del progetto europeo Fishing Med apre i battenti a Porto Torres il primo regional desk dedicato alla pesca. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra il comune di Porto Torres e l'agenzia Laore ed è stato presentato nella sala conferenze del Palazzo del Marchese. Tra le attività previste dallo sportello c'è l'assistenza tecnica e il supporto a programmi iniziative finalizzati allo sviluppo della piccola pesca e delle comunità costiere, con particolare riferimento alla diversificazione e alla multifunzionalità delle imprese. Sono previsti anche il monitoraggio del pescato, l'organizzazione della formazione per gli operatori, la creazione di una rete, la pubblicazione e la divulgazione di dati, informazioni e iniziative. Lo sportello, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nei locali del settore ambiente in via Ponte Romano, costituirà un punto di contatto tra le imprese, le istituzioni locali e la regione. Lo sportello è rivolto anche agli operatori delle marinerie di Stintino e di Castelsardo. Massimo Rocchita, responsabile dell'unità organizzativa della direzione generale dell'agenzia regionale Laore, ha sottolineato l'importante sforzo fatto dal comune di Porto Torres che ha concesso ai locali per ospitare il servizio. Questo è il primo regional desk realizzato nell'ambito del progetto comunitario FishMed, attraverso cui si intende creare un osservatorio europeo sulla piccola pesca per capire i problemi del settore e individuare nuove opportunità di crescita. Chi compie un'esperienza formativa all'estero ha più probabilità di trovare lavoro. Un report della Commissione europea intitolato The Erasmus Impact Study, pubblicato proprio in questi giorni, dimostra che tra i giovani in movimento il tasso di disoccupazione del 23%, circa la metà rispetto ai coetanei digiuni di esperienze internazionali. Con questa rinnovata consapevolezza, la comunità universitaria sassarese si appresta ad accogliere i suoi studenti ospiti mobilità Erasmus con un'intera settimana di eventi da lunedì 6 a domenica 12 ottobre. L'Erasmus Welcome Day si trasforma così per la prima volta in Erasmus Welcome Week. Solo nel primo semestre 2014-2015 sono attesi all'Università di Sassari 125 studenti in mobilità e i fini di studio. Molti quest'anno sono arrivati fin dalla prima metà di settembre a tratti dai corsi intensivi di lingua e cultura italiani offerti dall'Ateneo. In tutto sono rappresentati 13 nazionalità. Si parte lunedì 6 ottobre alle 16.30 con il City Game, una caccia al tesoro nel centro di Sassari alla ricerca dei luoghi caratteristici della città e alla scoperta del suo dialetto. Martedì 7 dalle 19 tempo di speed date, brevi incontri tra persone di lingue diverse che hanno l'opportunità di parlare insieme per 5 minuti prima di cambiare compagno di conversazione. La giornata di mercoledì 8 ottobre è lo Sporty Day dedicato al torneo di calcetto. dalle 17 alle 20 negli impianti sportivi delle querce. Giovedì 9 ottobre dopo cena al kiss all'insegna della musica con l'International Karaoke Night. Venerdì 10 si terrà il classico Erasmus Welcome Day, il benvenuto ufficiale che all'Ateneo di Sassari rivolge tutti gli anni agli studenti stranieri in entrata. La cerimonia si svolgerà in Aula Magna a partire dalle 18. In apertura sono previsti gli interventi di saluto del magnifico rettore professor Attilio Mastino, del professor Massimo Carpinelli, rettore eletto, del sindaco di Sassari Nicola Sanna, del professor Piero Sanna e del professor Giuseppe Moniello, delegati del rettore per la mobilità internazionale studentesca. Eccoci di nuovo insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Buon sabato! Prima di cominciare come sempre vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci info chiocciolatelg.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta andare su www.telg.tv all'interno del nostro sito potete trovare ogni giorno i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e come sempre tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo un comunicato che arriva dal comune relativo alla mensa scolastica. Mensa scolastica a partire dal 6 ottobre, quindi da lunedì. Il primo lunedì del mese di ottobre riprenderà dunque un servizio atteso dalle famiglie delle tante e dei tanti studenti che frequentano la scuola della prima infanzia e le primarie della città. L'avvio in questo periodo con gli anni è diventato oramai una consuetudine condivisa con le molte scuole cittadine. Alla base della scelta ci sono esigenze organizzative delle due amministrazioni scolastica e comunale. La scadenza per l'iscrizione a servizio è fissata nel mese di giugno, una data importante stabilita per agevolare le famiglie e gli stessi uffici comunali che così possono coordinare al meglio l'intera macchina organizzativa. Conoscere in anticipo il numero esatto di coloro che usufruiranno del servizio consente infatti la definizione delle tariffe e l'invio dei bollettini di pagamento, una contribuzione quella delle famiglie che copre circa il 31% del servizio e consente al comune che integra con i propri fondi un'offerta adeguata ai giovani studenti che hanno scelto di frequentare il tempo pieno. Capita purtroppo, affermano dagli uffici delle settore politiche educative del comune di Sassari che vengano presentate domande di iscrizione soltanto all'avvio del nuovo anno scolastico. Invitiamo le famiglie pertanto a presentare le domande per tempo evitando così possibili disguidi. La partenza della mensa è legata poi ad ottobre anche ad altre esigenze organizzative. Le scuole fanno sapere dagli uffici di Via Venezia e in questo periodo stanno definendo l'orario del personale scolastico e organizzano l'assistenza educativa degli alunni con disabilità in base al numero di ore di cui possono disporre. I primi giorni di attività scolastica sono pertanto necessari per riorganizzare gli spazi, comprese le sale mensa e il tempo scuola sulla base delle reali esigenze di alunni e alunni che variano ogni anno. Abbiamo valutato, ha aggiunto l'assessore alle politiche educative Maria Francesca Fantato, la possibilità di iniziare il servizio il primo ottobre, ma l'avvio a metà settimana non avrebbe consentito un'organizzazione ottimale che invece ci sta molto a cuore. Questo era il comunicato del Comune relativo al servizio mensa nelle scuole. Io come sempre prima di salutarvi vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Oggi è 4 ottobre quindi facciamo gli auguri a tutti Francesco e Francesca che festeggiano il loro onomastico oggi. Faccio gli auguri anche a mio figlio che si chiama Marco Francesco e anche alla nonna di mio figlio che si chiama Francesca. Insomma a tutti i Francesco e Francesca che ci seguono. Grazie mille e naturalmente l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Buon fine settimana! Previ dalla Sardegna, Fertilia. È ancora inaccessibile una delle due passerelle pedonali sul ponte di Fertilia. Il precario stato dei listelli in legno avevano reso necessario interdire l'accesso qualche settimana fa. Si pensava ad un intervento immediato del nucleo manutenzioni comunale come era già accaduto in passato ma ad oggi nulla è stato fatto. La passerella chiusa era quella maggiormente utilizzata da chi si recca nelle spiagge al campeggio Caliche al porto. Ora i pedoni sono costretti ad attraversare la strada in due punti ed in modo particolare il tratto da cui si accede alla borgata di Fertilia è privo di strisce pedonali. Una situazione di oggettivo rischio che è stata già segnalata dal comitato di quartiere di Fertilia al comune. Fertilia al comune. Almas bailar con ritmo de la noche Escuchar las respuestas de Usain Benegui escurre Y el pensamiento imagínese fue Un guerrero nel pasado bailaba a ustedes Forte l'intenina escurre entra poi Pare qui melodia, danza e fantasia Mouvete a mi ritmo, te gusta eixo No te arrepentirà, danza un pare a mi Vamos a bailar, vamos a cantar Alismute, su barduqui, una danza antiga Hombres en el mundo Nunquimeras, tu palu, danza un pare a mi Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a cantar A ritmo de Toca, su barduqui Toca, una danza antiga No te arrepentirà, danza un pare a mi No te arrepentirà, danza un pare a mi Aurora Record Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume Disponibile presso Studi di Telegi, zone industriale Predani e da Sud, strada 14 Pasticerie Vanali, piazza Santa Maria 33 e via Ettore Mura 20, Lipunti Goodi Music, via Carlo Alberto 31, Sassari Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso Gran gala di moda Villa Marina, in onda sulla nostra emittente, oggi alle 20.45, domani alle 11.30 e alle 23.00 Tg, informazione e approfondimento, orari messe in onda, dalle ore 13 alle ore 15 e 30, dalle ore 18 e 30 alle ore 20 e 45, dalle ore 22 alle ore 23 e 30 Grazie a tutti